Una vita distrutta andata a rotoli per colpa di un'altra persona, la rabbia, la frustrazione e quel senso totale di sconfitta che si aggancia a traumi e a profonde sofferenze interiori. In questo video ci concentreremo proprio su Eddie, meglio conosciuto come Venom, e vi prometto che sarà un viaggio psicologico estremamente entusiasmante. Con il massimo tatto e rispetto, anche in questo video, tratteremo tematiche abbastanza delicate che ci permetteranno di comprendere pienamente la psicologia del nostro Eddie, alias Venom. Se siete persone sensibili, vi sconsiglio, ripeto, vi sconsiglio la visione del video. Vi incoraggio a iscrivervi al canale, a condividere il video e a unirvi alla nostra community. Il nostro obiettivo è diffondere questi contenuti tra coloro che sono appassionati e interessati sia alla psicologia sia ai personaggi immaginari. Detto questo, vi auguro una buona visione. Come ripetiamo sempre nei nostri video, per capire un personaggio, dobbiamo sempre necessariamente partire dalla sua infanzia, perché è nell'infanzia che si formano le basi della personalità e le fondamenta del carattere. Nel caso di Eddie, Eddie è stato un bambino che ha vissuto un'infanzia particolarmente triste. La madre infatti morirà per alcune complicazioni durante la sua nascita. Alcune considerazioni su questo evento che risulta essere molto, molto importante per la psicologia di Eddie. La prima considerazione è che secondo diversi correnti psicologiche, inclusa la psicologia perinatale e perinatale, il neonato, ma già addirittura al feto, è particolarmente legato agli stimoli che riceve dalla propria madre. Non sarebbe quindi da escludere che nonostante Eddie non si ricordi, possa aver maturato un forte stress barra trauma da questo evento, ovvero dalla perdita della propria madre, anche se al momento era solo un neonato. Seconda considerazione, anche se a livello inconscio, il padre di Eddie potrebbe come di fatto fatto incolpare Eddie stesso della morte della compagna. Da non sottovalutare anche il fatto che il bimbo se ne possa ritenere in qualche modo colpevole o responsabile, anche se è bene dire, e sottolineare, che il bambino non ha nessuna colpa. È proprio per via di questo evento che il padre di Eddie farà sempre fatica a volerli bene. Sottolineiamo anche che Eddie è un archetipo paterno barra conflittuale padre, cioè, esattamente come il suo padre, Eddie è un individuo tosto, impositivo, duro, giudicante, sarà quindi respinto da chi ha atteggiamenti come i suoi, ovvero duri, impositivi, tosti e giudicanti. Ad esempio lo stesso uomo ragno, che ha anche egli una conflittualità di tipo paterno. Viceversa sarà attratto da persone che sono gentili, buone e protettive nei suoi riguardi. Eddie inoltre tenterà sempre di guadagnarsi l'affetto e l'apprezzamento di suo padre tramite i suoi successi sportivi e i suoi voti scolastici, ma ciò purtroppo non avverrà mai. Meccanismo di coping che può essere usato da Eddie è sicuramente l'alcolismo, ovvero un meccanismo estremamente disfunzionale che Eddie utilizza per gestire la sofferenza del rapporto con il padre. Sarà proprio l'alcolismo che lo spingerà a prendere da ubriaco l'auto di un suo compagno di studi ed inavvertitamente ad investire ad uccidere un bambino. Questo può essere stato un trauma estremamente pesante per Eddie. Avere ucciso qualcuno di così innocente infatti le rimarrà per sempre come peso sulla coscienza e potrebbe causarli anche continui disturbi dell'umore, disturbi nel sonno ma anche della percezione di se stesso. Cosa estremamente sconcertante per Eddie è che di fronte a questa sua azione il padre, oltre ad evitare di farlo finire in galera, sembra non punirlo o non prendere seriamente l'azione di suo figlio. Questo è un comportamento che può essere estremamente pericoloso da parte del padre, in quanto può spingere Eddie a compiere azioni sempre più estreme per ottenere l'affetto e la considerazione da parte del padre stesso. Forse è le cose che desidera più di ogni altra cosa al mondo. Dopo aver letto un articolo sullo scandalo Watergate, Eddie deciderà di dedicarci al giornalismo. La lettura di questo articolo può aver scatenato nel nostro Eddie un desiderio di ricerca della verità, un senso di indignazione verso la corruzione e un'identificazione con il ruolo del giornalista come espositore di verità nascoste. Dopo la laurea, infatti, si trasferisce a New York e ottiene un lavoro come giornalista per il Daily Globe. Si sposa e, su falsa segnalazione e sotto pressione, svela in uno scopo l'identità di un pericoloso assassino, ovvero il Mangia Peccati. Tuttavia, tale segnalazione che procura ad Eddie grande prestigio, fama e una promozione, sarà completamente invalidata da Spider-Man, che arrestando il vero Mangia Peccati condanna indirettamente Eddie alla perdita del lavoro, alla disistima sociale e alla fine del suo matrimonio. Interessante notare come per analogia la figura del padre che le ha rovinato la vita si incarni nuovamente nella figura di Peter Parker, verso il quale Eddie può provare un odio fortissimo e una rabbia inesauribile. La rabbia diventa quindi fonte di motivazione per Eddie e lo spinge ad allenarsi costantemente in una palestra, in modo di essere abbastanza forte per vendicarsi e per sopraffare Peter. Possiamo anche definire la psiche di Eddie come intrappolata in un ciclo distruttivo di vendetta e di risentimento. Vendetta e risentimento che possono portare alla completa autodistruzione della persona che prova tali sentimenti. Desideroso di farla finita, Eddie si reca in una chiesa dove chiede perdono a Dio per tutti i suoi peccati. Tuttavia, qualcosa incomincia a cadere su di lui, o meglio qualcuno. È il simbionte che, abbandonato precedentemente da Spider-Man, ha trovato in Eddie un nuovo ospite. È bene dire che il simbionte ferito, abbandonato e anche desideroso di vendetta, entra in estrema empatia con il suo nuovo ospite, con il quale sembra stabilire un legame tossico molto profondo. Il legame tra Eddie e il simbionte riflette una dipendenza emotiva e un controllo reciproco. Il simbionte influenza fortemente la personalità di Eddie, amplificando aspetti oscuri e aggressivi della sua psiche. In situazioni estreme, Eddie può perdere totalmente il controllo sul suo corpo e le sue azioni a causa dell'interazione con il simbionte. Tuttavia, il simbionte offre a Eddie un senso di potenza e libertà fisica, alleviando la fatica e fornendo una forza straordinaria. L'importante è sottolineare che, oltre alla forza, il simbionte conferisce ad Eddie anche alcuni poteri dell'Uomo Ragno, come lo spalare ragnatele che sono stati assorbiti precedentemente da Parker stesso. L'unione tra la rabbia vendicativa di Eddie e quella del simbionte ha creato uno dei nemici più letali per l'Uomo Ragno. Questo rende Venomo una forza formidabile, ma allo stesso tempo alimenta una complessa lotta interiore in Eddie, tra il desiderio di potere e la paura di perdere se stesso. Soluzioni? Assolutamente sì, anche per il nostro Eddie è possibile una redenzione. Per prima cosa, è necessario che Eddie si riconosca come responsabile della propria vita e dei propri problemi, che si stacchi completamente dal simbionte. Fatto questo, Eddie dovrebbe iniziare a un percorso terapeutico, in modo riesca a elaborare, barra rielaborare, le proprie sofferenze interiori. Utile si rivela la psicanalisi freudiana, la psicanalisi junghiana, la psicoterapia, ma anche l'ipnosi regressiva. Estremamente utile si rivela al consulto con un professionista, magari con uno psicologo esperto in discipline analogiche benemegliane, il quale può aiutare Eddie a raggiungere un benessere emotivo con se stesso e con le proprie emozioni, per un perfetto riequilibrio emozionale, ma soprattutto della propria vita. Ciò che è certo è che Eddie con un po' di aiuto potrebbe riscoprire e riabbracciare quella parte così fragile, autentica e delicata di se stesso, che è nascosta dal suo costume nero e tenebroso di Venom.